ciao oggi andremo a provare una nuova ricetta che aggiungeremo quattro uova giusto per iniziare la ricetta ecco abbiamo un grattugiato da quattro uova adesso andremo a grattugiare il formaggio una volta grattugiato il formaggio andiamo a tagliare la cipolla una volta tagliato la cipolla e l'aglio andiamo a metterli dentro la ciotola e andiamo a mettere anche l'aglio adesso andiamo a mescolare adesso andiamo a stendere l'impasto adesso andiamo a stendere il contenuto di uova, cipolla, aglio e formaggio andiamo a stendere l'impasto ecco una volta steso l'impasto adesso andiamo a girarlo una volta arrotolato andiamo a tagliarlo in piccoli pezzi una volta preparato l'uovo andiamo a spalmarlo sopra una volta mescolato andiamo a fornare una volta mescolato andiamo a fornare una volta mescolato andiamo a fornare una volta mescolato andiamo a penna per 20 minuti ed ecco i tortini lo scacci alla prossima puntata dello chef cristiano ciao